Denise Maison de Botté Affidare la propria pelle ad un'equipe di professionisti è il miglior modo per salvaguardare bellezza e forma fisica ideale. Denise Maison de Botté City Spa di nuova concezione coniuga un'estrema scientificità con le più moderne tecnologie e una diagnostica d'avanguardia per affrontare con successo gli inestetismi di viso e corpo. Antichi riti di purificazione attraverso le rinomate potenzialità dell'acqua avvolgenti bagni di vapore e l'incredibile sensazione di fluttuare sull'acqua regalano momenti di puro benessere. La depilazione definitiva con luce pulsata, il trucco permanente e la ricostruzione unghie renderanno sempre impeccabile la vostra immagine.